Noto piacevolmente di essere riuscito a convincervi, benvenuti nella seconda parte del video delle challenge della sesta settimana di Fortnite Vi ricordo di lasciare un bel mi piace e arriviamo a 30.000 perché la prossima settimana ci sarà lo SpaccaTutto Il link della prima parte è in descrizione e buona visione Siamo a 5 sfide completate, mancano 3 casse di rifornimenti e 7 forzieri alle sponde del saccheggio Bene, dobbiamo fare assolutamente questi 7 forzieri, senza se e senza ma, non so come però ci dobbiamo provare Schiantati subito, vediamo di portare a casa sta caspita di missione Sono decisamente basso, forse troppo basso, ma spero di trovare almeno una cesta, una Oh mio Dio, no, hanno già aperto quella qua sotto, che palle Oh mio Dio Crepa e basta, va C'è qualcuno in cima, probabilmente ci ammazzerà, ma non mi interessa, tanto non ho trovato niente Eh, che ca... 8? 8, davvero? Scendi da lì, cavolo, oh mio Dio C'è il lanciamissili questo, ma... Oh mio Dio A sto punto, secondo me, mi conviene andare direttamente o alla casa al centro o direttamente in mezzo al lago, non lo so Non ci sono casse, ma è incredibile tutto questo Sto per fare la prima, sto per fare la prima Dai, 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 no, 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 levati le... No, che palle, cioè pur di vaffanculo, mi ha rubato la cassa Va a cagare, va Io, ragazzi, spacco tutto, spacco il computer Pure Muori Due ore dopo Ottimo Grandioso, vai così Mi sto rompendo decisamente i coglioni Capite? Perché ognuno prende una cassa, a me non rimane mai niente Questa potrebbe essere la prima No, non è la prima Non è la prima perché l'hanno già presa No, vabbè Ma al costo, va, di ammazzarti a picconate, te lo giuro su Dio Ma vai a cagare, va È impossibile, ragazzi, fare questa sfida, è impossibile Magari questa volta che siamo lontani dalle sponde riusciremo a prendere qualcosa Cioè, è la mia speranza, in realtà Dovrei aver fatto un atterraggio decente, almeno per aprirne una Ma una sola mi basta per ora, vi prego E ovviamente c'è già qualcuno, ma ci avrei scommesso C'è una cassa, veloce, 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 ti prego, ti prego Sì, una presa Incredibile Vaffanculo, ma se trovo qualcuno gli spacco la faccia in due, giuro No comment Mi ha one shotato Incredibile Una cassa, ragazzi Questa sfida mi sta facendo perdere completamente la testa Quello se ne è beccate due addirittura Vabbè A me basta la mia qua sotto e sono contentissimo Oh sì, siamo a due Sa che prenderò sempre questa, è l'unica che riesco Qualcuno sta salendo? Qui sì Oh la la Ciao Dimmi che qua sotto c'è un'altra, ti prego No Qua dentro, qua dentro, veloce Veloce Non l'ho preso, non si sa per quale ragione assurda al mondo Altro giro, altra corsa Ma vedete quanta gente c'è ragazzi C'è capito che non ha senso Lì c'è una cesta Lì probabilmente ci vanno già a prenderla Ma non sanno dov'è di preciso Sanno che è qua Lo sanno che è qua Ti prego dimmi di no Dimmi di no, dimmi di no, dimmi di no, dimmi di no Sì che non lo sanno, bella roba Oh ma che cazzo vuoi? Io non ho parole comunque ragazzi Cioè ogni colpo che tiro Se me non faccia niente Si salvano con 4 di vita Devo continuare dopo Ci vuole troppa pazienza ragazzi Troppa Sono già andati mi sa su quella che volevo prendere io Ma forse hanno fallito Hanno fallito e fatta eh Ti è, becca Poione Ma chi se ne frega se muoio L'importante è prendere la cassa Non so più quante ne manchino 3 o 4 Boh Sto perdendo la speranza La cosa buona è che nessuno conosce questo trucchettino E quindi non riescono mai a prendere la mia cassa La prendo sempre prima degli altri Vero? Anche stavolta? Ma certo che sì Ne mancano 2 Mancano 2 casse Non sono riuscito a colpirlo Non si sa per quale motivo Arcano Mancano solo 2 Tutti più avanti di me 6 casse ragazzi Ogni volta arriviamo qua la troviamo Ne manca solamente una Dimmi che l'ultima è qua sotto Ti prego No Non c'è mai 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 Maledizione Qua c'era una cassa e l'hanno presa Fa un culo Aiuto Non ci sono più casse Me ne manca una sola Manca una sola cesta Dai almeno questo l'abbiamo finito Voglio crederci in questo sogno Chiamato ultima cesta Dai step Dimmi che c'è L'ultima volta che attiriamo No Non è vero Questo è un scherzo Dimmi che è qua sotto Ti prego L'hanno già aperta Statene là sotto Va coglione Che palle Mi auguro che questo sia davvero l'ultimo atterraggio Perché sto impazzendo con questa sfida Non voglio mai più atterrare alle sponde del saccheggio Ve lo giuro No 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 Non dirmi che l'hanno già presa Non c'era neanche Prima di morire qualcuno ammazzo Non me ne frega nulla Manca una cesta Chiaro Come fanno ad essere così bassi Vabbè Teoricamente non dovrebbe arrivare nel punto in cui voglio io Questo è il mio punto C'è la cassa Sì Finita raga È finita È finita Sette di sette Va a cagare Va Ciao amico Dove scappi Vieni qua bello Tua madre Comunque abbiamo finito almeno questo Sette cassa Falle sponde del saccheggio Vaffan gala Mi servono solo tre approvvigionamenti Non chiedo nient'altro Ti prego Gioco Vieni mi incontro Bella la pistolina silenziata Questa shotta le persone Sono troppo forte Scemo Adesso dobbiamo solo aspettare i drop Ragazzi Io non voglio fare altro Non avete capito Non voglio vincere la partita Voglio trovare i drop Io sto guardando verso il cielo Ma non trovo niente Era mai capitato di mangiare i popcorn nel bagno? Secondo me No Ho sentito il drop Sì 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 Finalmente raga Potete giurarci che lo proteggerò al costo della mia vita Corri step Corri Non se lo merita nessun altro Solo tu te lo meriti E forse possiamo farne addirittura tre in una partita sola Se siamo bravi You're welcome my friend Meri Kooten Ci chiudiamo Lo recuperiamo Oh che bello Grazie a Dio Uno di tre Fatto Teniamo la pozzoncina Va bene Dai niente pende E uno è andato Orecchie ben aperte Aspettiamo gli altri due Ehi là Donde sta il minemico? È un po' timido eh Mi ha già sparato Ma si è nascosto Devo andare a prenderlo io Cioè questo mi spara Devo andare io a prenderlo Oh Efficiente Laggiù c'è quell'altro che mi sparava eh Non so dove di preciso ma è laggiù in fondo Guardalo dov'è lo schifoso Laido Vuoi correre quanto vuoi ma ti prendo Boom Si certo di quanto non l'ho preso Ah ok Ok Solo per andare a vedere che caspita aveva devo andare laggiù Per forza E che caspita c'è un medikit Me lo sparo qua nel mezzo si ma chi se ne frega Il jetpack potrebbe servirci Io direi di si Vai medikit e jetpack andiamo via Praticamente scarico lo so Però ne avevo 4 kill magari vinciamo la partita Se andassi a riprendere il mio jump pad Qua sopra Così facciamo qualcosa di carino Ok come piace a noi Perché sto andando a giro con due forti portatili Perché sto andando a giro senza una goccia di scudo Boh Si stanno sparando qua Ho sentito qualcuno arrivare con un jump pad Ehi la Un fortino su un fortino Ma vai a cacare Dai ma di cosa parliamo Due fucilate a pompa nelle gengive Mancano due droppe Non ce la faccio più ve lo giuro ragazzi Sto registrando sto video da stamattina Ma che pizza Ormai ragazzi non so più veramente come fare e cosa fare Questo cosa fa Sono atterrato alla fine della corsa Perché ho detto vabbè Andiamo alla fine Chi se ne frega Questo lo andiamo a ammazzare dopo Tranquilli Prima recupero qualche arma Alla portata della latrina A casa mia Beh la safe dov'è? Dalla parte opposta Grazie E sto scemo L'abbiamo ammazzato C'è qualcuno raga Ho fatto perdere pure il 14 scudo C'è un altro? Veramente Fermi tutti Fermi tutti E ci divertiamo E' ancora lì? E' ancora lì eh Non lo prende Woo Got you baby Got you baby Come on Ehi la C'è un tipo davanti a me Che vuole farmi fuori No 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 E vabbè tua madre E' stata una pessima idea Molto semplicemente non avrei dovuto farlo A me non cambia Un posto vale l'altro Ho bisogno dei drop E' la caccar va Ho voluto perdere pure vita Per farlo felice sto qua Il cavolo però che uso il mio medikit Così te lo scordi Ho fatto bene a non usare il medikit Avete visto? Tiè Snurpotto Ho sentito Sì 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 È la cosa più importante in assoluto In questo momento Devo prendere quel drop A costo della mia vita Cioè se lo prendo e muoio Va benissimo Adesso per il campo da calcio Più o meno Sbrighiamoci Eccolo che arriva Non ci sto quasi credendo Ve lo giuro Sì 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 Tutto mio Tutto mio Vai così E siamo a due Grandioso Che soddisfazione raga Ne manca solamente uno Addirittura Soga E questo L'abbiamo fatto secco Devo trovare l'altro drop Ragazzi Mi sparano Da dietro Oh 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 Qualcuno è stato cecchinato Eccoli Mannaggia Dai Headshot Sta scappando Eccolo Rischiavo tantissimo Muori Sì così Via verso la safe Via 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 Alla fine della partita Di solito i drop aumentano Quindi ne voglio trovare Almeno un altro Uuuu Quasi Cosa sta facendo quello Uuuu Mi hanno cecchinato Ma non so da dove Nostro onzetto Però l'abbiamo preso E l'abbiamo fatto fuori Preso il jetpack Che non si sa mai Ma non so chi è Che mi ha sparato Forse ha fatto il no scope lui E poi è morto Può darsi Dove Sono I drop Un drop E sono contento Vi giuro Basta una sola cosa Ora mi cecchinano Ora mi cecchinano Ora mi cecchinano Altro medikit Oh la laguata laggiù in fondo POOM Come ho fatto a non prenderlo Scusami Come ho fatto a non prenderlo Capite che non ha senso Questa cosa Stavo lì BOOM L'unico vero problema È dove sono I drop Che ho chiesto La stanno combattendo Credo eh O forse no BOOM Se lo chiappo Se lo chiappo Ragazzi L'ho preso davvero Nascope A sto punto Mi conviene recuperare Almeno il loot Di quello che ho appena ucciso Dico chissà cosa Il loot di quello lì Ah stanno combattendo addirittura Dove sono i drop Non ci sono più Hanno abbassato il rate dei drop È incredibile Che dire Svuotiamo parco pacifico Già che ci siamo Tre persone in vita Una è lassù E si sta curando Probabilmente L'altra è lassù E sta camperando Bene Posso farmi gli affaracci miei Fino alla fine credo Io non devo vincere Non avete capito Io voglio prendere il drop Non so manco Se ne faranno cadere altri È quella la cosa brutta È lì sopra ancora Ma che ansia Perseveranza E vabbè Dai Ma cosa dici Ragazzi Sì 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 Non ci credo Forse non avete capito Ma io posso anche morire Per quello che mi interessa Muoviti Ti prego sbrigati Sì 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 Missione finita Ragazzi Ho finito Tutto Quanto Ora capite perché non me ne fregava niente Di prendere la vittoria Io volevo solamente i drop Aia Aiuto Aiuto I don't wanna die I don't wanna die I don't wanna die No 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 I think we got a problem Ho finito il material Facciamo così Non si affaccia Ho finito tutti i miei colpi Morto Si sta curando Si sta sparando gli shieldini Ma io ho bisogno assolutamente Di spararmi Questo medikit Altrimenti siamo morti Appena sale Lo uccidiamo Non ho più materiale Vorrei farvi presente Questa piccola cosa Ma è così che muore Vai 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 Che muore Dove cazzo è? Vieni qua a combattere Buffone No Ho finito i materiali Non ci voglio Credere Cari amici Questo video di oggi Termina qua Le challenge di questa settimana Mi hanno veramente Devassato Psicologicamente E spero che il video Vi sia piaciuto Prima di concludere Ovviamente Andiamo a vedere Qual è stato Lo sblocco Della schermata Di caricamento Numero 6 Ah Omega Che si prende un caffè Tutta sta fatica Per un break Alla grande Lasciate un mi piace Commentate Condividete Se ancora non avete fatto Iscriviti al canale Ci ho messo Tre ore e mezza Se non quattro A registrare sto video Noi ci vediamo Nei prossimi Giori prossimi video Qua si apre tutto E settimana prossima Se Dio vuole Sblocchiamolo Spacca tutto Si Direttamente dall'America Sblocchiamolo Nei prossimi Grazie a tutti.